Ciao carissimi amici del tubolare, questo qua è electric Madre! Oggi cose serie, ok? Oggi facciamo cose serie Oggi voglio fare una sfida contro me stesso, sono anni ormai che disegno su una tavoletta a schermo e quindi in tutti questi anni non disegno più in una tavoletta grafica normale, quelle non a schermo La simpaticissima Uyon, che è una compagnia nuova che fa tavolette grafiche, mi ha concesso il cosiddetto onore di provare due tavolette La prima, una classica tavoletta non a schermo, una Uyon Inspiroi, o magari si pronuncia Inspiroi E la seconda che una tavoletta a schermo invece La Uyon Canvas GT220 signori Una bella bestiola da 22 pollici Ok? Ok bambini? Con una penna dotata di 2048 livelli di pressione, schermo IPS, full HD Quindi, come dire, non è un giocattolino, anzi E da questa sfida che farò contro me stesso, magari potrò consigliare a chi come voi magari sta iniziando Ad approcciarsi al mondo del disegno digitale, con che tavoletta iniziare O quando è buono passare da una tavoletta normale a una a schermo Soprattutto come questa, perché a livello di prezzo è alquanto imbattibile, ve lo dico io È una tavoletta a schermo davvero accessibile Ma, andiamo ad aprirle prima di tutto Konnicewa, koai, konnicewa, arigato Oh, per bloccarla Grande! I-I-I-I-I-I-I-I Puntdi Err un altro guanto del potere sì sento il potere un altro guanto del potere Ehi, cavo, altro cavo, due cavi E tre cavi, a sorpresa Ah, essere base, complicato Ah, cd E tavolona, è grande Ah, hai capito E tavola per bambini grandi E voilà No Altro guanto del potere Yes Due guanti potere Yes E panno pulizia E due penne E due No una, e due Ah, gift 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 Ah, cacciavite, regalo Geniale Ah, ah E, eh Woo E, eh, eh Ah, ah Jippe, zuppe Je, je, je Altro cavo Ah, ah Grande mago Oh Ehi, chi, chi Ehi, chi Ehi, chi Ehi, voilà Ah, ah Oh, wow Ok, come potete vedere La tavoletta è bella che è montata Entrambi le tavolette Qua c'è la numero uno Piccola Non a schermo E questa ovviamente è quella a schermo Che utilizzerò anche come schermo Due penne diverse Perché una è quella della tavoletta normale E questa è quella dello schermo La cui tecnologia sembra essere tutta all'interno Della penna Incredibile Prima di iniziare voglio testare un po' la tavoletta a schermo E vedere cosa riesco a fare Non so cosa farò Ma mentre che io sto parlando qui con voi Voi già avrete l'onore di vedere cosa avrò fatto Perché io sono il peo del passato Che ora sta disegnando qualcosa Vi posso dire innanzitutto che ho deciso di installare la tavoletta Al mio portatile piuttosto che al fisso Per vedere se un portatile nella media Riuscisse a reggere questo strumento Anche con il programma di registrazione e la tavoletta Il disegno rimane fluido E quindi piacevole come sempre Ok bambini? Ok finito questo test Io direi che possiamo iniziare la vera challenge La vera sfida Quella per veri uomini come me È caduto un amibo È sano Troviamo una posizione tattico-tecnica per la telecamera E direi che possiamo iniziare Bene signori come potete vedere Inizio con la tavoletta base Ok? Quello che farò sarà un viso Iniziamo con un viso Oh mio Dio È stranissimo disegnare di nuovo su queste tavolette Su questa insomma non a schermo Non ho più il collegamento occhi-mano Fondamentalmente è quello che serve all'inizio Non riesco a capire l'angolazione della mia mano Mamma mia verrà tutto storto Un uomo storto O una donna storta Dipende quello che faremo Viso di donna o viso di uomo Questo è il dilemma Oh mio Dio È difficile proprio Perché? Dai Po Stai concentrato Cristoforo C'è già quest'occhio proprio storto Forte Oddio È così difficile Pro mi Lo spazio è molto minore Rispetto a quello a cui sono abituato Ovvero Questi sono 22 pollici Questo è un quadratino Ma la sensibilità è buona Oddio Ci metterò una vita Quindi voglio che gli occhi guardino da un lato Chiunque tu sia Mio Dio Sto a fare un macello Sto facendo un macello Una bella boccuccia Sorridente Sorridente Abbiamo un'aggiustata a questo mento Che è un po' troppo Lungo Egnì Egnù Perché? Perché non mi vengono le linee Come dico io? Perché? Allora bambini Qua la faccenda si fa pagliosa Soprattutto quando devo andare verso destra È un macello Però mi sembra Mi sembra Che me la stia cavando benone Voi che dite? Come facciamo i capelli a questa ragazza? Molto anime Tanto è un disegno super anime Già di suo Ah quando si tratta di precisione Perdo proprio Egnì Ho gli addominali tirati Non so perché Cioè sto tirando gli addominali Quando faccio Le righe Egnì Ah è un blu E da be di da be dai E da be di da be dai Se tu lo vuoi me la dai Era tanto che non disegnavo Con una tavoletta non a schermo Ma mi sembra che me la sto cavando la grande Che dite voi? Però è bravo eh Peo è bravissimo Peo sei il migliore Grazie Grazie Ma più bravo di te Peo Non c'è nessuno Grazie Grazie Che è così difficile Madre Non ce la faccio A fare le righe dritte Madre Mi sta per prendere un crappo La mano Egnì Ok secondo me ci siamo Vado a zoomare un attimo Per fare gli occhietti Carini Com'è difficile madre Madre non sai Quanto è difficile E perché parlo a mia madre Se lei non c'è qui? Adesso questa ragazza qua Verrà anche un pochino colorata Perché no? Quindi subito subito La pelle Da pollo Perché adesso ho in testa il blu Io non capisco Io non capire A me sembra che stia venendo piuttosto bene Anzi Pensavo peggio Ebbene ecco qui finito quindi Quello fatto con la tavoletta piccola Non a schermo Ci scriviamo Tavoletta Normale Mi sembra un bruttissimo risultato Sinceramente Ma adesso Andremo a vedere il confronto Di come me la cavo invece Con la tavoletta a schermo Quella che uso sempre Ma in questo caso questa è un'uova Della Uyon Boys Bene signori Diamo inizio al disegno Con tavoletta su schermo Come potete vedere Dall'inquadratura in alto E' già tutta un'altra storia Mamma mia Già ho molto più il controllo Della situazione Molto più piacevole Mamma mia Sono abituato troppo bene Troppo bene Posso perdere un po' più di tempo Nei dettagli stessi Perché E' molto meno difficoltoso Almeno per me Sinceramente non penso Che la farò proprio uguale Un po' per variare Quindi faremo una frangia dritta Carina Molto anime Come giusto che sia Dopotutto avrete capito Che sono in una certa Fissa anime ormai Tutta un'altra storia Signore Mamma mia Chissà chi vince Sto disegnando proprio Ispirato così a caso Molto bene Così non mi dispiace Brrrrra Che cos'è il verso Che fanno tutti questi rapper Oggigiorno Che dicono solo Brrrrra Brrrrra Qualcuno me lo spieghi Proprio esagero Il collare Poi anche la quantità di tempo Che ci sto mettendo È molto meno È che uno stile completamente diverso Rispetto a quello lì Però Signori miei Tutta un'altra storia È stata una vera sfida Farlo con l'altra tavoletta Con questo un piacere Signori miei Una signora infermiera Ecco che cosa facciamo Voilà Qui ci avrà anche il camice Ci ho messo almeno Un quarto d'ora di meno Rispetto allo schizzo Dell'altro Ed è venuto anche meglio Secondo me Poi Sono gusti Quindi starete anche voi A dirmelo No Peo Quell'altro era molto meglio Peo ma perché non mi credi Ho detto che l'altro Era molto meglio Quindi per accelerare Questa volta andiamo a fare prima Tutto il riempimento Che già è molto più precisa Mi permette anche Di non zoomare troppo Tranquillo Easy Con questo zoom Ovvero quello con cui ho iniziato Potrei tranquillamente Finire il disegno Ma una zoomata Gliela diamo Che è meglio Bene signore Abbiamo finito anche questo Che è stato molto più divertente da fare Devo ammettere Mi sono divertito con le luci Sono stato lì Si vede proprio che Con quell'altro ho fatto fatica Secondo il mio parere Vince il Peo con la tavoletta a schermo Non che l'altro risultato Sia brutto Ma non è bello quanto Però ecco Sarete voi Come sempre A dirmi Nei commenti Qual è il vostro preferito Quale vince Tavoletta normale O tavoletta A schermo Cavamini Tavoletta normale O tavoletta a schermo Tavoletta normale O tavoletta a schermo Comunque vada per ricapitolare Per chi di voi fosse interessato Ad acquistare una tavoletta grafica Perché magari vuole iniziare a disegnare in digitale Questo qua signori È un ottimo inizio Io stesso ho iniziato con una tavoletta simile Ma se posso permettermi il lusso Perché è una cosa in più Perché i lavori si concludono anche con questa I disegni top si fanno anche con questa Ma se voglio qualcosa di più Questa tavoletta a schermo Potrebbe fare il caso vostro Che ovviamente è tutta un'altra storia no? E per quanto riguarda Proprio queste due tavolette Credetemi non sono neanche così costose Anzi Anzi Il rapporto qualità prezzo È imbattibile Vi lascio in descrizione Il link delle due relative tavolette Che io ho provato Ma oggi abbiamo provato una cosa È meglio la tavoletta normale O quella a schermo? Secondo me Non è importanza Della grandezza del tuo mezzo Ma è come lo utilizzi E questo va in tutti i campi Si dice Chiaro bambini? Ciao! È ora di chiudere Un bel po' di amore Al pulsante qui Sattaforma di pollice in su Mi raccomando Iscriviti se non sei iscritto Cioè Mamma mia Sto davvero esagerando ultimamente Chiudiamo il video Questo era Electric Brrr Addio Grazie a tutti Ciao, 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 ciao